ci siamo ciao a tutti bentornati in un nuovo gameplay dell'angolo del game bentornati su f1 race stars cambiamo pilota e oggi gareggiamo con kimmy ray cunen tripla bolla rimbalzante vediamo un po questa è stata mitica storia di slalom gran bretagna germania australia andiamo a scoprire cosa consiste questo tipo di gara di gare tre tracciati passa attraverso le porte per fare punti non so cos'altro c'era scritto e collega gli stessi colori per un bonus punti per vincere 15.000 numero uno cosa ormai sto tenendo il colore giallo per vincere riparazione Oh Ah, ho cambiato colore, azzurro Ah, ho cambiato colore, azzurro Ok, si riparte Oh, c'è uno che sta vincendo rispetto a me Giallo Oh, ho Ah, niente E' finita la gara, quindi sono riuscito a recuperare Primo, irreprensibile Ho preso 10 di quelle cose lì, va bene 25 punti raggiunti 17.500 punti Cioè più aumentano i punti più diventa lunga e difficile la gara 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7 Sto andando con il rosso Ah, sono passato all'azzurro Al centro Ah, sono passato all'azzurro Ma la stella cosa serve? Ah, sono passato all'azzurro no Grazie a tutti. Ok. Riparo la macchina. C'è uno davanti a me con 9300 punti. 9400. Cambio colore. È giallo. Perché è la stella? Anche se non ho capito cosa serve. Nadir! Ho sbagliato colore, vabbè. Blu? È blu sia. Oho! Non sono uscito a prendere il blu. Oho! Oho! Perdi punti. E ho vinto anche questa. La prossima da conto sarà a 20.000 punti. Professionista di power up. Ok. Si sale a 50 punti. 55 punti prenderebbe se arriva... quindi. Mi basta arrivare nei primi 10. No. Nei primi 9. Probabilmente. Va bene dai. Primi 8 e mi assicuro di vincere. Collega dei stessi qualori. Ok. Eh! L'ha pescata! Non ho preso giallo. Nooo! Devo riparare. 1.400 punti. C'è... gli altri mi hanno superato. C'è uno che mi ha doppiato. via con il giallo. Senza vento. C'era una strada lei adesso. se mi ricordo dopo. Sono davanti a tutti. Quindi stavo facendo rallentare. Ok. 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 Santo Vista. Noè. un altro giallo mi stai facendo rallentare sono riuscito ad arrivare appena in tempo ah io ho perso tempo però ci sono riuscito ho preso la bandiera gialla vediamo se ci riesco ancora cambio colore azzurro aia aia c'era una stradina sulla destra vediamo se riesco a prendere e qui intanto diciamo rosso cambio colore vediamo cosa succede tada no non è stata una scelta gioiosa rosso tutto rosso questo giro beh sono in prima posizione immaginavo che mi avrebbero colpito torno sul giallo è finita è finita è finita ho vinto anche questa quindi ho vinto tutte e tre le gare non mi credo se c'era una quarta gara ma per ora sono in prima posizione 75 irraggiungibile resistenza svilato in pole position duello oh di nuovo una pilota donna sul podio questa volta è in seconda posizione però aspettate che faccio vedere come io che sono un pescatore è tatarattata 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 tatantà e facciamo finire l'episodio qui giusto vediamo cosa succede giusto ok ciao a tutti